Ho fatto una scena con te per fare in gerosia l'aiuto. Non è che ti piace Alessandro e domina lì? Siete tutti che io sia un superficiale, ma non è così. Tu sei così. Voglio dimostrare a Danita che non sono uno strozzo che credo. E fare in gerosia. Con Valentina, che lei sei sempre stato sulle palle. Sei proprio uno strozzo. Non mi piace Alessandro. E' una non di cose belle. Alessandro? E' un certo che ti fa giuro lì. E un Romano. Maribel! Che ti piace, Stefano. La mia storia. E non ti piace. Non ti piace a Danita! Mi raccomanda laallya che dice che invece sia per dirci. Come sta andando la tua strategia? Non te le piene niente di venti, no? Beh, perché faccio perdere? Mi sembra di un piatto.